benvenuti oggi su piantalan stiamo effettuando la pulizia di quest'angolo ragazzi veramente pieno pieno di schifezze però un po alla volta lavoro certosino stiamo cercando di risolvere e quindi si parte sto accumulando tutto il ferro qui man mano che lo trovo che sono già poi in accordo con con chi ritira il ferro così poi viene a prendere tutto in un'unica soluzione però ancora tanto ragazzi ho appena portato su questo questa branda di letto mamma mia c'è da spaccarsi un po la schiena qua ragazzi dai ultimo sforzo e oggi chiudiamo ragazzi altro che beato te mi sto spaccando figa guardate cosa ho tirato fuori sto tirando fuori tutta la baracca qui nel bosco ed è dura ed è dura pensavo che qualcuno di voi venisse ad aiutarmi invece niente vabbè dai io ci provo lo stesso per la prossima puntata aspetto qualcuno che vuole diciamo impratichirsi in piantaland che qui sta sempre venendo fuori più bello e non vi svelo i segreti che che sono riuscito a risolvere diciamo in queste due settimane sto lavorando come un leone e adesso nella mia domenica di pausa continuo a pulire questa fattoria che sto riportando in piedi praticamente qui è veramente dura in this moment rock time tosto di brutto sto finendo di pulire la baracca ma sta venendo fuori un sacco di materiale dura dura e niente sto portando un po il ferro su sto facendo vecchio i am old man sto invecchiando white head no vabbè sto delirando adesso comunque è dura ragazzi è dura adesso c'è un po di ombra ma oggi c'è stato un sole pazzesco e qua l'estate non è terminata per adesso si sta benissimo a dorsana 1 2 3 piantala